Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto della vita di Kraven, una vita che è sempre stata sul filo del rasoio, soprattutto guardando alla morte dall'altra parte. Per questo video, infatti, partiamo proprio dalla morte del Kraven originale. Attenzione però, se seguite i fumetti o se avete seguito i nostri video, sapete benissimo che in realtà Kraven aveva anche un figlio. In realtà viene considerato l'ultimo figlio di Kraven, proprio il nome che solitamente gli viene dato, ma è un clone, letteralmente il suo clone, in forma un po' più giovane, che comunque rimane in vita. Oggi parleremo di lui e di come la Marvel ha a un certo punto anche tentato di far diventare questo villain, Kraven, non tanto un villain di Spider-Man, ma un villain più degli X-Men. Oggi continuiamo quindi il nostro viaggio per quanto riguarda questo personaggio e lo concludiamo in realtà. Quindi, bentornati su Comics, ragazzi, mi raccomando, se non volete perdervi altri video del genere vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciate anche un mi piace così da festeggiare la fine di questa serie. Ovviamente poi l'ultimo video che ci sarà di Kraven sarà un video lunghissimo, sapete benissimo che solitamente facciamo così quando trattiamo le serie. E io direi che potete sedervi comodi perché si parte proprio da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Dopo la grande caccia, il figlio di Kraven aiuta a organizzare i funerali per suo padre e durante il funerale trova anche un biglietto lasciato dal padre. Difatti lui diventa l'unico erede della fortuna di Kraven, sapete benissimo che comunque era molto molto ricco, quindi questa cosa sicuramente lo può rendere felice, ma non eredita solo ed esclusivamente la fortuna, ne eredita anche il nome. Di fatto quindi l'ultimo figlio di Kraven, ripeto, viene considerato proprio così, viene proprio chiamato così solitamente dal fandom, diventa ufficialmente Kraven, il cacciatore. Come dico sempre, la Marvel non uccide mai definitivamente i suoi personaggi e quando lo fa è perché c'è qualcuno che prende il suo posto. E in questo caso abbiamo il clone di Kraven che prende il suo posto, prende il suo posto, quindi non è esattamente un figlio che prende il suo posto, ma è la stessa identica persona clonata che riprende lo stesso costume, riprende lo stesso nome, riprende lo stesso mantello. E quindi da qui in poi questo nuovo Kraven inizierà la sua carriera da cacciatore ripercorrendo le stesse orme del padre, insomma. Non è che cambi molto, anzi possiamo dire tranquillamente che non cambia assolutamente niente tra il Kraven nuovo e quello vecchio. Semplicemente, e qui vabbè magari mi spingo un pochettino oltre, diciamo che l'hanno un po' allontanato da Spider-Man secondo me in quest'ultima iterazione. Difatti in quest'ultima parte vedrete che di Spider-Man parleremo un paio di volte e poi ci concentreremo su altri personaggi. In particolare, la prima caccia simbolica di questo nuovo Kraven fu proprio Deadpool, proprio perché in quel periodo Deadpool divenne il re dei mostri, utilizzando la Bloodstone e quindi abbiamo uno scontro tra il Kraven nuovo e Deadpool re dei mostri, che termina con Kraven che viene sconfitto e viene teletrasportato in Alaska. Questo scontro comunque ve lo voglio citare, soprattutto in questa parte di video, perché Kraven avrà a che fare con Deadpool anche più avanti. Ovviamente un Kraven che si rispetti non può non avere a che fare con i Sinistri 6. La nuova iterazione dei Sinistri 6 viene ricreata da Doctor Octopus, che ovviamente contatta il cacciatore e lo convince a far parte del gruppo con una preda. Gli dice infatti se fai parte di questo gruppo puoi aiutarci a catturare Lizard, visto che noi vogliamo Lizard nel team. Tra l'altro proprio durante questa nuova creazione di questi nuovi Sinistri 6 viene creato un nuovo Lizard. Difatti Doctor Octopus riesce a catturare Doctor Connor, Lizard originale, e utilizzando degli isotopi modificati crea una copia di Lizard. In poche parole adesso Lizard, quindi la versione Lucertola e il Doctor Connor, sono due versioni separate, quindi anche lui si unisce a questo nuovo team dei Sinistri 6 in cui c'è anche Kraven. In realtà questa è una serie molto più lunga in realtà, molto più grande, anche se non molto famosa, anche perché diciamoci la verità è abbastanza recente, se non erro è uscita tipica cinque anni fa, che si chiama Sinister War. In questa serie infatti vediamo alcuni team che riguardano Spider-Man, alcuni team di villain che hanno affrontato Spider-Man in passato, che si scontrano l'uno contro l'altro. Abbiamo infatti questi nuovi Sinistri 6 contro i Savage 6. Chi sono questi Savage 6? È un team composto principalmente da Vulture, da Tarantula, da Dinosaur Man, da Scorpion, da Rhino e da King Cobra, che è una sorta di trazione parallela ai Sinistri 6. Questi team si scontrano in un torneo, tra virgolette, organizzato dal Goblin Grigio, personaggio di cui magari parleremo più avanti, ma non è molto importante per la storia di Kraven. Sappiate solo che questo Goblin ha organizzato questa sorta di finto torneo, proprio per mettere nello stesso posto tutti questi vari villain di Spider-Man, per poi, con l'aiuto di alcuni insetti modificati, provare a ucciderli, anzi, a ucciderne alcuni e a controllarne di altri. Alla fine, ovviamente, tutto questo verrà sventato proprio da Dr. Octopus, che quindi riuscirà a mettere fine intanto al piano di Grey Goblin, ma anche a questa battaglia tra questi team di Spider-Man. Poi io dico sempre, perché se qualcuno ha la stessa passione bisogna combattere, questi ce l'hanno la stessa passione, ovvero uccidere l'Uomo Ragno. Comunque, avrete notato che in questa nuova parte della vita di Kraven, di fatto questa nuova vita di Kraven, perché stiamo parlando del clone, ancora non abbiamo parlato dell'Uomo Ragno, ma direi che possiamo parlarne, e noterete che in realtà occupa veramente una piccola parte nella vita di questo clone, che in particolare si troverà a scontrarsi con un'altra versione di Spider-Man, non esattamente Peter Parker, ma più che altro Ben Rayleigh, uno dei cloni di Spider-Man, che diventa ufficialmente Spider-Man a un certo punto della storia. Quando la Beyond Corporation, una corporation, un'azienda fondata da dei Beyonders, che sono queste creature fuori dall'universo, che proprio riescono ad avere dei poteri incredibili, in particolare queste creature qua, sono delle creature che al posto di attaccare il multiverso, comandare nel multiverso, decidono di divertirsi con gli abitanti degli universi, che cosa fanno? Acquistano il marchio registrato di Spider-Man, dalle Parker Industries, che ormai non esistono più, e quindi di fatto hanno in mano il nome di Spider-Man, nonché anche il costume, e quindi decidono di donare questo marchio, questo nome, a un loro Spider-Man che lavori per loro, ed è proprio Ben Rayleigh, che diventa Spider-Man Beyond, o meglio, viene ricordato proprio in questo modo, come Spider-Man Beyond. In questo modo vediamo quindi Ben Rayleigh, che ha diverse avventure, in quanto Spider-Man e Kraven, almeno questa versione di Kraven, andrà proprio ad attaccare questa versione qui, quindi ci sarà un vero e proprio scontro tra i due. Un po' la vecchia maniera, quindi il classico scontro a New York tra Spider-Man e Kraven. E stiamo parlando comunque, ragazzi, di uno scontro anche non così iconico, anche qui abbastanza recente, e in più io questo scontro, questa accoppiata, l'ho sempre ritenuta una sorta di inside joke. Perché? Perché entrambi si portano dietro il nome originale dell'eroe originale, o anzi del personaggio originale, però allo stesso tempo entrambi sono dei cloni, sia per quanto riguarda Ben Rayleigh, che per quanto riguarda ovviamente il nuovo Kraven. E questo però è un classicone, comunque, associare Kraven all'uomo ragno. Comunque, come vi ho detto anche poco fa, in realtà il nostro personaggio sarà legato ad altri personaggi, ad altri eroi, tra virgolette. E tutto questo, per arrivare in realtà, tutto questo bisogna passare per uno che non è considerabile un eroe per quanto mi riguarda, ovvero, di nuovo, Deadpool. Difatti siamo nel Polo Nord, e dopo un litigio con Omega Red, Deadpool si ritrova completamente disintegrato. E che cosa arriva? Ovviamente in suo soccorso, la solita fortuna del nostro mercenario, arriva un orso polare gigantesco, che non solo mangia Deadpool, ma in particolare mangia la sua testa. Quindi la testa di Deadpool finisce nello stomaco di questo orso polare. Scopriamo che questo orso polare enorme era proprio seguito da Kraven, che lo stava cercando in tutti i modi, e alla fine riesce ad aprirgli la pancia, dopo lo scontro, però vuole ovviamente avere questo trofeo, questo trofeo da portare nella sua casa, ma ci trova ovviamente anche la testa di Deadpool. Quindi in poche parole si porta non solo la testa del mio sorso polare gigantesco, ma anche la testa di Deadpool a casa. Alla fine le altre parti di Deadpool arrivano nella casa di Kraven, e comunque riesce a sconfiggere il mercenario, e riesce a prendere la sua testa. Qua la testa di Deadpool giocherà un ruolo fondamentale per la prossima parte di storia, che va un po' a chiudere la storia di questo personaggio. Difatti, utilizzando la testa di Deadpool, Kraven decide di avventurarsi in un luogo inesplorato anche del se stesso del passato. Difatti decide di andare a Cracoa, la nazione mutante. Infatti, una cosa che in molti hanno sempre fatto notare di questo personaggio, e che comunque lui ha l'ossessione per questa grande caccia. Però poi alla fine si fissa totalmente su Spider-Man. C'è da dire però che all'interno dell'universo Marvel ci sono delle prede, comunque umanoidi esattamente come Spider-Man, che hanno dei grossissimi poteri, su cui Kraven si è concentrato veramente pochissimo nel corso della sua storia. E quindi in questo punto della sua storia il nostro Kraven decide di provare ad assaltare proprio i mutanti. Aiutandosi quindi con la testa di Deadpool, riesce ad arrivare a Cracoa e attacca diversi mutanti e membri degli X-Men. Uccide tra l'altro alcuni di questi, come per esempio Icarus, per farvi capire, e poi a un certo punto utilizza anche Beast come una sorta di esca. L'esca Kraven la usa per attirare quello che per lui è il target più importante, quello che Kraven considera essere il mutante più pericoloso in assoluto che si trova su Cracoa, nonostante i vari mutanti psichici o che controllano gli eventi, le tempeste o robe del genere. No, per lui il mutante più pericoloso, il target più difficile da catturare, è proprio Wolverine. Per Kraven la taglia più grande, o meglio, la taglia più preziosa, la testa più preziosa, il trofeo più prezioso sarebbe proprio la testa di Wolverine e quindi c'è uno scontro tra i due. Lui ovviamente lo reputa una grande preda, anche perché sapete benissimo che comunque Wolverine, soprattutto nei fumetti, ma devo dire che questa cosa l'hanno ripresa anche abbastanza bene nel film Deadpool and Wolverine, ha dei tratti che ricordano molto dei tratti animali e quindi per Kraven sicuramente questa è un'ottima preda. C'è da dire che ovviamente questo scontro, cioè non ha, il Kraven non ha nessuna possibilità di vittoria, figuratevi, di fatti alla fine viene sconfitto, ma comunque sopravvive e anzi giura comunque che tornerà prima o poi a Cracoa a prendere altri mutanti. Di fatto questa è una storia, pensate che è del 2022, quindi è veramente molto molto recente, anche perché questa grande storia di Kraven inizia molto tempo fa, quindi in poche parole inizia letteralmente 60 anni fa, cioè la prima storia di Kraven che abbiamo raccontato è di 60 anni fa, l'ultima che è questa è di solo due anni fa, quindi è molto molto recente, molti fan hanno inteso questa nuova iterazione del personaggio come una sorta di cambiamento radicale per come lo vedremo da adesso in poi, quindi un personaggio che da essere un classico villain di Spider-Man, di cui ce ne sono veramente tantissimi, decine e decine, provano in qualche modo a spostare la sua attenzione, a farlo diventare invece un classico villain dei mutanti. Poi in realtà c'è solo questa occasione qui, per carità di Dio, però vi dico la verità, trasformare questo personaggio in questo modo secondo me ha senso, perché un Kraven che comunque è il cacciatore e deve cacciare queste grandi prede contro i mutanti, secondo me funziona veramente alla grande. E il video e anche la storia di Kraven, ragazzi, finisce proprio così. Quindi io come al solito vi ringrazio per essere qui con noi, mi raccomando fate i bravi e io vi lascio con due contenuti che riguardano questo personaggio, gli altri due che abbiamo fatto sulla sua storia, sia le sue origini che ovviamente la sua parte diciamo di mezzo in cui ha affrontato anche Venom. Quindi io vi lascio questi due video, fate i bravi, ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.